Io ti dico grazie tantissimo perché rispetto al primo è di sicuro sia quando studierò ma anche se mi servirà avrò un aiuto molto maggiore rispetto a quello che all'inizio avevo che era come detto che inizia quello di leggere e ripetere e ripetere che non serviva niente perché sprecavo solo tempo. Poi ringrazio anche la Federica e José perché mi hanno insegnato e anche Samuele ad usare le mappe perché ho visto che io andrò anche prima in media se ho bisogno anche per lo studio con le mappe mi potrà sempre aiutare.